Deve essere un finanziamento pubblico ma trasparente e soprattutto i soldi devono essere spesi per l'attività politica e non per altro, e neanche per arricchirsi attraverso patrimonializzazioni immobiliari e finanziarie. Di fatto questa legge trasforma il finanziamento pubblico basato sul consenso, cioè sui voti che hanno ottenuto gli elettori e i partiti, a un finanziamento basato sul censo. Il 2 per 1000 di fatto è questo, il 2 per 1000 di un professionista sarà sempre superiore a quello di un lavoratore. Quindi voi siete contrari alle donazioni pubbliche e anche contenute in un tetto da definire? No, delle donazioni private noi siamo favorevoli, sempre che in un sistema di finanziamento totalmente privato ci sia un tetto, noi proponiamo 100.000 euro perché un cittadino altrimenti si compra un partito, però appunto queste non possono sostituire il finanziamento pubblico che invece deve essere legato alle attività politiche e alle campagne elettorali e non come è stato fino adesso soltanto invece a pioggia senza controlli.